Allora signori, per motivi di sicurezza per la vostra incolumità, chi è da quella parte lì, davanti alle recensioni, si deve spostare, al massimo vi potete mettere qua, di lì dovete venire via, li passano i motori e rientro, succede che qualcuno non ha la croce per fermare le alette della turbina, se vi vuole un'aletta calda in faccia, a cavolacci vostri, vi ridisegneranno la foto sulla carta di identità. Passo c'è l'eropera, sapete che il telescopio si tratta su, via, via di lì che lì devo passare i trattori, lì premia ster, via, lì a premia ster, sulla zona di rientro dei trattori via tutti. Allora, un 60-90, poverino, si è sviluppato bene però come 60-90, chiede da mangiarmi a mele. Allora, ha perso l'uno davanti al 60, è un 160-90 signori, ed è il signor dall'argine. Ehi, vuole fare la cambiatina anche, vuole fare il professionista che gli hai messo a matto via anche, ai 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 ai, vuole ripartire. E' ripartito da ferma, vita passata, il tempo non sarà del migliore ma ha coraggio. 34-04 Allora, dopo di lui, il numero 22, Mazzola, Fiat 1003. Il nome era di un noto velocista italiano, vediamo se rispetta il cognome. Si, ha preso anche a te da beve, non è vero, eh? Si, ha perso l'acqua del fuori, anche a Roma che alcuni del Detto ha vinta a si proprie stiti. Mazzola toccate che bella marmitta lucida che hai oh ma tutto, c'è appena verniciato i cerchi, figa come lucica oltre che dal popista è andato dai carrozziere anche tacca il tuo pitraino fermati, fermati che puoi ripartire fermati che puoi ripartire allora abbiamo ancora quattro concorrenti in questa categoria quindi cominciano a prepararsi concorrenti dai 200 cavalli e oltre il primo a partire nella categoria degli oltre 200 dopo questo c'è, dopo Mazzola c'è il 24 Barosi senti colpo sì sì, 24 Barosi un'altra cambiata, più un'altra cambiata l'applauso solo per le cambiate che si è già andato a fare c'è un'area in pista abbiamo un'area in pista vuole atterrare grazie 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 grazie